I ragazzi, non so, forse hanno sentito troppo la partita, ma non credo, l'avevamo preparata molto bene. Cioè per giocare a calcio c'è bisogno di personalità, di cattiveria, di agonismo, di corsa, di sacrificio. E questo non si è visto in primo tempo, assolutamente. Non riesco a capire perché. In casa facciamo grandi prestazioni, abbiamo sempre vinto e fuori casa stiamo facendo una fatica proprio grandissima fatica e questo non ce lo possiamo permettere. In secondo tempo siamo scesi con un altro piglio, si è visto una squadra che ha lottato, che ha corso, che si è aiutata. Poi gli errori ci sono, però non riesco a capire che quando prendiamo un gol andiamo allo sbando totale. E' una squadra molto esperta. In partita si può stare fino al novantese, una partita può anche riprendere alla fine. Quindi noi siamo stati bravi a pareggiarlo, andare in vantaggio. Cioè fino a cinque ore alla fine vincevamo. E una squadra esperta come questa, a cinque ore alla fine deve chiudere la partita.